Ecco, c'è un gruppo di Bambi Natale, ecco, guarda i bambini della club tra l'altro, ecco, della palestra, vero, mitica, ponte di Firenze, che ci stanno salutando e noi li risalutiamo, e se venite anche voi si fa una bella, facciamo una foto di insieme a Bambi Natale, che diventa qualcosa di veramente, di veramente strepitoso, guarda la roba, no, ok, ecco, ora c'è anche l'invasione dei Bambi Natale, sembrava uno, sono 15, sono, va bene così, va bene lo stesso, intanto io spiego quello che andrà ad accadere fra poco, vedete ad esempio quel pratino verde che c'è lì, ecco, da lì, che è fuori, posizionato nella piazza, lontano dal green, ecco, è chi mi salutava, arriveranno e ci sarà il tentativo di tiro qua, sul green, e poi si andrà a chiudere il colpo, intanto, foto con i Bambi Natale, foto con i Bambi Natale, con i vincitori, appunto, del Pontevecchio Golf Challenge 2010, ecco, ci sono anche delle Bambi Natale, che sono anche più discrete, le Bambi Natale, bisogna dire, devo sempre stare, ecco, cosa dici? Da Costa Rica, Costa Rica è una sorpresa, ammazzano proprio dal posto giusto per il Bambi Natale, chi è, chi è che non va a fare Natale in Costa Rica? Eh certo, e poi Bambi Natale è sempre pronta, giusto? Dica, 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 tra l'altro Ale, scusami, ma uno dei Bambi Natale l'ho preso qua, da noi, nella postazione della regia, e ce l'ho qua per un'intervista esclusiva, come dice solo questo, qualunque cosa tu li chiedi, dice questo, come ti chiami? Ascolta, io c'ho delle pasticchine per questa faringide, o sti, e se tu vuoi che cosa posso fare, che lavoro? Ok, allora, grazie ai Bambi Natale, grazie, buon lavoro, grazie a voi, e adesso vediamo questi campionati di golf fanno, ripeto, vedi là quel pratino verde? Ecco, vedo, c'è, ci sono anche due signori avanti però, devono prendere anche loro, no, loro si devono spostare perché sennò poveraini prendono la pallina in testa, ecco, da lì, i nostri campioni cercheranno di arrivare sul green e poi di andare a chiudere il colpo, no, bellissimo, quindi dobbiamo scendere dal green perché siamo, sì, stiamo dando noia, mi dispiace lasciare la signora Cabrera, ecco, Cabrero, Cabrero, Cabrero,